Autonomia amministrativa e gestione unitaria ed integrata della Parco archeologico di Aleavelia e della Parco archeologico di Pestum. E' stata così accolta dopo tre anni la proposta formulata dal Consiglio Comunale di Ascea con la delibera del 31 gennaio 2017, che mirava anche ad abbreviare e velocizzare i processi decisionali ed ottimizzare le risorse dei due siti UNESCO. Con l'ok definitivo della Corte dei Conti, pubblicato proprio in queste ore in ganzetta ufficiale, dunque il via libera a quella che rappresenta una svolta storica per i due parchi archeologici del territorio cilentano. Sì, effettivamente è una grandissima notizia che noi attendevamo da anni e su cui abbiamo lavorato da almeno tre anni con una delibera di Consiglio Comunale in cui auspicavamo proprio il risultato che oggi abbiamo ottenuto. E' una grande notizia perché permette di mettere insieme le capacità, la forza, la passione di popolazioni locali e anche del sito archeologico di Pestum insieme a quella di Veglia. Sostanzialmente che cosa cambia? Quali saranno, come dire, le novità importanti di questa nuova gestione anche per una ulteriore valorizzazione del nostro sito? Beh, quello che cambia è la velocità delle decisioni, innanzitutto vengono assunte qui sul posto e nello stesso tempo c'è una razionalizzazione anche delle risorse umane ed economiche perché si lavora insieme. Quindi tutto ciò porterà sicuramente un beneficio grande anche a Veglia. Si pensa che a Veglia i visitatori annui sono circa 35-40 mila, mentre a Pestum sono 400 mila e possiamo anche pensare più in là di andare avanti perché a Pompei sono 4 milioni. Quindi il passo ulteriore su cui questa amministrazione vuole puntare è quello di in qualche modo fare degli accordi per Stumoveglia anche con Pompei. così sicuramente si farà in modo che la popolarità, diciamo, di questo sito sia molto più grande e sia quella che si merita. Quando di fatto vedremo i primi risultati, la gestione? Ecco, la nuova gestione è già attuata, state già lavorando, vi siete sentiti con il direttore Gabriel Zucktrigel? Sì, Zucktrigel ha già detto e ci ha già contattato per fare un tavolo di concertazione con i sindaci dei due siti, con l'Endeparco. Io penso che già prima dell'estate comincieremo ad avere le prime azioni concrete. Il museo resta un altro sogno, un grande sogno da realizzare, in qualche modo viene ora coinvolto anche in questa nuova gestione o una realtà sì? È una realtà sì per il momento, qui è necessario un finanziamento importante che al momento non c'è, quindi non possiamo fare previsioni per il futuro, anche perché spesso se ne parla tanto e poi non succede niente, a volte non se ne parla e poi si verifica, quindi preferiamo avere il riservo su questa cosa anche se ci lavoriamo da anni.